buonasera e ben ritrovati dopo un po di tempo finalmente ci ritroviamo questa sera ho l'onore veramente è un onore per me ospitare un grande scrittore un grande traduttore spagnolo spero di mettere tutti gli accenti giusti jose angel gonzalez science giusto benissimo giustizio promossa ecco benvenuto cosa è grazie di essere qui con me tante grazie michela grazie a te grazie anche a daniela spagnolo la casa editrice vetia e a cristina cervezzato che penso che ha avuto a che fare anche con con questa organizzazione no esatto infatti volevo appunto anche io ringraziarle di averci dato questa opportunità e proprio di averci messo in contatto stasera cos'è è qui adesso vi dirò vi parlerò un pochino di lui ma intanto vi faccio vedere il libro che presenteremo che è intitolato due città e c'è un punto in mezzo ma scopriremo dopo jose gonzalez jose angel gonzalez è veramente uno grande scrittore ma soprattutto traduttore vive in spagna però ha abitato per molti anni in italia ha abitato a padova ha abitato a trieste ha abitato molti anni a venezia dove ha insegnato l'università caffoscari è traduttore di autori molto importanti perché è traduttore di claudio magris di emanuele severino di daniele del giudice ennio flaiano questi sono alcuni se non sbaglio degli autori italiani che tu hai tradotto da qualche anno è tornato dal 2016 è tornato a vivere in spagna dove ha fondato il centro internazional antonio maciado e io parto proprio dal chiederti cos'è che cos'è questo centro internazional antonio maciado questo centro sono due cose fondamentalmente siamo a soria una piccola città vicino a madrid a 200 chilometri di madrid in un vecchio convento dove vissuto tirso tirso di molina mi piace dire che la che inventato il don giovanni non è vero era prima ma comunque mi piace dirlo e siamo in quel vecchio convento del del cinquecento e fondamentalmente il siamo il centro internazionale antonio maciado sono due cose uno un centro di disegnamento di spagnolo per stranieri soprattutto americani anche anche italiani e di alcune città italiane e un centro di umanismo e quindi facciamo una cosa molto bella che io ritengo sia molto bello che per due giorni e ci prendiamo di mira dei testi molto precisi di grandi autori da da maciado a heidegger da lante a montagna quest'anno sono montegno tegas e quindi prendiamo pezzi capitoli o pagine e stiamo due giorni discutendo leggendo facendo dei rimandi al resto del dell'opera leggendo dal punto da tanti punti di vista piccoli gruppi di al massimo una ventina di persone 20 25 persone alle volte 10 le volte 25 e questo è molto bello perché la lettura è guidata da un grande specialista in ognuno di questi di questi autori l'idea è di non perdere di vista quello che si sta perdendo di vista purtroppo da una corrente che viene da dagli stati uniti che noi europei che siano alle volte così scemi abbiamo ingoiato in una forma penso troppo affrettata ea critica e quindi non per se non perdere di vista il vecchio umanismo i grandi autori il canon dei grandi autori l'anno scorso siamo stati due giorni a leggere due pagine dell'iliade quindi è stato molto bello leggendo ogni parola discutendo ogni parola vedendo ogni concetto no quindi questo piace piace moltissimo e penso che sia anche un elemento importante di nel non voler perdere le nostre quello che si dice le nostre radici la cultura occidentale la nostra cultura europea è stata l'europa è stata la culla della civiltà insomma e quindi per tanti aspetti dal punto di vista proprio culturale per cui capisco questa questo bisogno perché spesso come dicevi prima ci ci affidiamo e prendiamo dagli altri pensiamo che tutto quello che avviene dal che viene da lontano sia meglio di quello che abbiamo e invece dovremmo valorizzare proprio abbiamo sia valorizzare che quindi ricordare che è importantissimo soffermarci sui testi non leggere in fretta leggere un romanzo un autore così per dire che è stato letto ma soffermarci leggere una pagina leggere un brano tornare a leggerlo vedere che cosa capiamo che cosa capiamo del contesto di quei concetti di quell'epoca ma poi io ho un senso della lettura molto contadina visto che parlavamo prima di città contadine quindi il contadino semina e raccoglie quindi io sempre dico bisogna leggere i libri per raccogliere per me che cosa colgo da questo libro che cosa mi porto a casa mi porto nella casa della mia anima che cosa raccolgo di ogni libro alle volte ci sono libri stupendi ma non mi danno niente non mi resta niente non non riesco io a cogliere niente e quindi niente in queste in queste giornate cerchiamo di mettere a confronto diverse letture di letture non so le persone che vengono non soltanto sono laureati quindi alle volte i laureati non non è detto che sappiano leggere meglio degli altri no alle volte una persona che legge con una certa onestà vuol dire con una certa intelligenza può capire può prendere per sé molte più cose di un laureato che ha che ha studiato così per per passare l'esame o per o per ripetere delle delle cose no bene allora questa sera appunto affrontiamo questo tuo libro due punto città fa parte appunto dicevi di edito da il vecchio editrice ma fa parte di una collana che si chiama tacquini d'autore che raccoglie libri di viaggio e mi piace leggere proprio la collana qui appartiene perché dice testi che girano per il mondo percorrono le frontiere della scrittura che attraversano quest'epoca astrusa cercando tracce di significato incontrando storie paesaggi personaggi libri che ci accompagnano nella quotidianità e nei nostri altrove allora io partirei senti proprio dal dal titolo perché due con questo punto che separa la parola due e città ed entriamo penso proprio nel vivo di 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 questi di questi due racconti di questi due racconti che compongono il tuo libro sì ci sono due pagine iniziali in cui viene penso spiegato abbastanza bene sai che un libro che è il il frutto la conseguenza di due libri che sono stati pensati ma non sono stati realizzati no quindi è difficile sai per me l'importante soprattutto la scrittura noi il lavoro quotidiano di rapporto col mondo attraverso la scrittura io mi rapporto col mondo e scrivendo no sai quello certo molto bene spiegato da peter anche no quindi per certi scrittori il mondo o per certe persone che scrivono anche se non sono scrittori non sono professionisti il mondo inizia quando riesci a esprimere qualcosa per scritto no quindi un giorno riuscito un giorno in cui riesci a iniziare la giornata con con un rapporto con la con la con la con il mondo attraverso la scrittura quindi un conto di scrivere un altro conto e pubblicare un libro finire un libro la maggior parte delle del degli sforzi di scrittura non portano a meno per me non portano niente quindi sono naufraghi questi due racconti sono due racconti naufraghi quindi due racconti che appartengono a due libri pensati ma che non sono riuscito a scrivere per perché tante volte quindi hai l'idea il passaggio dall'idea alla realizzazione quindi non riesci a portare a termine le cose per diversi motivi perché ci sono altri progetti che ti sembrano più interessanti oppure perché non hai l'energia perché e quindi sono due racconti che assieme messi assieme il metterli assieme penso che abbia qualche colpa o qualche responsabilità lo scrittore roberto ferrucci che mi ha incoraggiato questo e quindi mettendoli assieme ho visto che insomma che ci siano che ci sono tante cose è un bel confronto e soprattutto rispecchiano diciamo le due città italiane in cui ho vissuto più di metà della della mia vita curiosamente sono i due unici pezzi in cui ho ambientato un racconto un romanzo in italia il resto è sempre è stato è ambientato in 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 spagna allora sono entrambi appunto ambientati in due città un ambientato il primo è ambientato a trieste e il primo è ambientato il secondo scusa è ambientato a venezia è vero che sono due racconti però parlando scopriremo che ci sono dei rimandi dei richiami e delle delle considerazioni che possono valere per per entrambi anche se le tematiche sono magari diverse la storia è diversa i protagonisti sono diversi le situazioni sono diverse però ci sono dei io almeno ho trovato tutta una serie di di richiami uno te l'ho detto prima che andassimo in onda però non è sicuramente l'unico il il punto di partenza è che come tu dici nelle prime due paginette iniziali dove dai la chiave di lettura di questi di questo libro è legato al numero due è vero che sono due città però il numero due è un numero che ti tu dici ti appartiene cioè tu sei legato al numero due e infatti racconti hanno del si giocano spesso su questo dualismo magari li vedremo poi però scrivi anche sempre in queste paginette iniziali che non c'è mai due senza il tre ecco ed è lì che mi piace andare un pochino a a scoprire perché tu dici che il tre è sempre in arrivo e quando arriva se ne sta già andando e quindi non è mai fisso non è mai permanente non è mai una sintesi quindi c'è però in te la ricerca della sintesi oppure dai già per già in partenza non c'è perché è di passaggio ecco questa è una curiosità che vediamo la ricerca della sintesi può può darsi ma sapendo che non mi interessa molto quindi non sono per niente egheliano nel senso che non credo in tanti in tanti versi o in tante sfere del dell'umano non penso che ci sia un progresso non penso che si progredisca moltissimo quindi la sintesi la sintesi mi fa addirittura paura tante volte quindi la mia cifra la tensione quindi la tensione tra una cosa e l'altra tra la ricerca della tranquillità e la e l'inquietudine quindi mi piace la soprattutto la cifra eraclitiana no del il fiume che sempre lo stesso sempre è sempre diverso no per me io sono stato un lettore di filosofia tanti dei miei amici sono filosofi con cui discutiamo sempre perché per me il modo di conoscenza più alto è la letteratura e quindi quando entra in crisi la filosofia di cose arrivate proprio ai limiti della letteratura dopo ogni crisi letteraria e quindi per me resta eraclito il filosofo più interessante sempre di fondo in quel senso sempre poter vedere le cose da 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 un angolo dall'angolo contrario questo sguardo oblico più che sintetico in cui le cose vanno viste in un senso in un altro di notte di giorno quando sei innamorato quando sei in un territorio più scavro quindi le cose vanno sempre viste da ogni angolazione da ogni età da ogni posto a ogni luogo quindi mi piace questa questa tensione e cerco sempre questa tensione che compare penso di quasi in ogni frase no se un po hai visto che io una 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 textura un po più non so se in italiano rende rende bene ma in spagnolo cerco sempre un lessico ampio una una sintassi ricca il paragrafo lungo no ho l'idea che con un paragrafo lungo uno riesca a esprimere le cose con più complessità no quindi non è una scrittura facilissima quindi la scrittura che richiede certo l'attenzione del lettore no sicuramente sono due racconti che vanno letti con calma bisogna leggere e molto spesso bisogna ritornare indietro rileggere e ricollegare e poi a volte sei in fondo e devi ritornare magari non dico all'inizio ma quasi perché hai scoperto un rimando e vai a controllarlo dipende da che livello di lettura si vuole tenere fondamentalmente ecco tu hai parlato proprio di allora intanto io volevo un attimo accennare almeno a queste a queste due storie per far capire che ci sta ascoltando quantomeno di cosa stiamo parlando perché allora i due racconti hanno uno si intitola una leggera differenza d'espressione che poi tra l'altro il quincepite ecco è quello che troviamo in copertina del libro ed è quello ambientato a trieste e lascio a te poi magari dire di cosa si tratta l'altro invece ha intitolato l'altra strada quindi già si vede questo la leggera differenza di espressione e e già si trova il dualismo perché vuol dire che ci sono come minimo due espressioni una in un modo e l'altra nell'altro l'altra strada anche qui ci fa vedere che c'è un dualismo ecco anche se hanno hanno valenze diverse ecco e vuoi dire tu due parole cosa di giusto per far capire a chi ci ascolta di cosa stiamo parlando perché altrimenti poi parliamo sì di inquietudine ma non non riusciamo anche se non la trama non è la cosa essenziale lo sappiamo alla fine ecco perché non è questo il nucleo l'hai detto bene michela quindi la trama non è la cosa essenziale l'essenziale la scrittura no e quindi ma hai detto bene faccio attenzione adesso che già nel nei due titoli e compaiono due concetti fondamentali alterità e differenza no e quindi proprio si gioca su queste due su queste due parole no il racconto veneziano faccio fatica anche a ricordare i testi allora sai cosa facciamo andiamo su queste alterità che troviamo così poi chi vorrà leggerse lì e avrà la chiave di lo scopo e di preme e preme dire quindi il fatto che uno abbia scritto i racconti vuol dire alle volte poco no quindi uno scrive i racconti in sforzo di scrittura ma poi i racconti volano da da soli quindi non sono non ti appartengono più appartengono ai lettori quindi nel caso in cui uno decida di rileggersi è un lettore in più che può ricordare delle chiavi di creazione di costruzione ma può averle dimenticate nel caso veneziano si ricordo diciamo il il concetto del del libro che era dopo dopo tantissimi anni a venezia vissuto più di vent'anni sono stato più di trenta andando tornando dicevo perché non ho scritto mai su su venezia perché non mi coinvolge nella non mi coinvolge nella scrittura no e poi ma come rappresentare venezia quando è stata rappresentata milioni di volte in francia addirittura addirittura quasi un genere letterario il venezianismo non ci sono centinaia di libri scritti da da francesi da francese su venezia no e quindi come poter dire qualcosa in più no e allora avevo pensato a venezia chiaramente come labirinto no e ho pensato alle figure che definiscono un labirinto no e quindi uno era l'alterità no un altro era il filo conduttore un altro era la 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 perdita quasi obbligatoria no e l'uscita del del labirinto quindi ho pensato quattro dovevano essere quattro e non di più perché questa la cifra era il quattro per venezia no e quindi il primo era sull'alterità no sul fatto che in un labirinto tu hai continue necessità di di scelta no dove vado a destra o a sinistra no prendo questa strada o prendo quell'altra strada no tutto questo visto da un punto di vista che quello che mi interessa di più un punto di vista esistenziale quindi da una parte si parla del luogo di un itinerario attraverso i vicoletti veneziani veneziani e l'altra parte immediatamente il rimando ea i vicoli della vita noi l'avvento della vita l'avvento del pensiero l'avvento delle nostre scelte e quindi qui qua si gioca sul fatto di fare sempre la strada che faccio ogni giorno quindi continuare a percorrere le strade che ho percorso nella mia vita quindi le abitudini oppure lasciarsi prendere una tentazione di prendere un'altra strada che non ho mai invocato e quindi tutto il racconto si gioca su su questa su questa scelta di fare la stessa strada di sempre oppure soccombere alla tentazione del diverso e dell'altro quindi c'è proprio questa questa grande metafora di quest'altra di quest'altra strada di quest'altra calle che che attira il protagonista e che diventa proprio una metafora alla fine una grande metafora di tutti di tutti gli incroci e le scelte che ci troviamo davanti durante durante la nostra vita sì sì e quindi c'è questa questa ma anche le nostre fughe perché alla fine ci troviamo anche lì a scappare a volte dalle situazioni ma scusami l'altra strada da una parte attira è vero il nuovo attira ma dall'altra parte incutte paura dall'altra parte fa paura e quindi ogni scelta si gioca sempre su questo fulcro da una parte sono il desiderio del nuovo mi attira è l'inquietudine e dall'altra parte mi fa paura no quindi speranza e paura questi due sentimenti che insomma che regono tante delle nostre delle nostre scelte troppe delle nostre scelte certamente però proprio arriva parlando dell'inquietudine nel secondo racconto appunto quello della calle cioè il protagonista sente proprio desidera poter sentire quell'inquietudine scrivi tu e la stessa inquietudine però la troviamo nel primo nel primo dei racconti perché tu ad un certo punto gli scrivi che non riusciva a soffermarsi mai su un aspetto su nessun aspetto della sua vita e la sua inquietudine era paradossalmente ciò che più lo calmava quindi l'inquietudine è un rimando c'è in uno c'è nell'altro e addirittura nel sempre nel dualismo diventa la modalità per calmarsi quindi c'è proprio questa sì il primo racconto quello quello triestino diciamo per per capirci la si gioca su un motivo che mi ha sempre interessato che la scomparsa di una persona a certo punto scompare una persona il motivo per esempio di un regista italiano che io amo tanto che antonioni non l'avventura l'avventura scompare una donna non tante volte in antonio scompare un personaggio che quasi sempre una donna allora qua scompare un modo scompare dalla vita delle sue amanti e scompare dal 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 suo amico che è quello che narra e quindi ci si chiede dove è andato a finire perché scompare quindi ci sono diverse meditazioni intorno a questo a questo personaggio questo racconto potrebbe essere l'inizio di un racconto più lungo oppure restare così come con con tanti punti sospesi sulla sulla vita sulla scomparsa di questo di questo di questo personaggio quindi qui nel primo racconto compare il concetto dell'errore che mi ha colpito anche perché arriva uno dei due protagonisti è un architetto che arriva per errore in quella città e quindi mi sono chiesta la valenza dell'errore nella nostra vita come benissimo infatti volevo andare proprio a vicenza prende il treno a venezia comincia a leggere a certo punto ha fatto un'ora di percorso verso trieste e quindi cioè visto che mi sono sbagliato ma questo treno arriva e finisce a trieste vado a trieste no e quindi trieste poi lo colpisce gli piace e resta la resta la senza capire molto bene perché ma resta la e quindi questo errore come come un motivo del dell'azione motivo delle scelte tante volte è così c'è un racconto di daniele del giudice che è un scrittore che io amato tanto e di qui questo mese uscito anche in spagna la traduzione di un bellissimo racconto nel museo di di range con una mia prefazione c'è un un libro di di daniele del giudice che proprio inizia anche con con l'errore quindi è un pilota noi che a certo punto impara attraverso un primo errore che che ha avuto quindi tantissime volte succede così non che tante cose anche tante cose belle e per niente sbagliate iniziano con un con un errore e quindi così inizia questo questo racconto poi tu scrivi sempre nel secondo racconto c'è una frase che mi ha fatto pensare mi ha fatto soffermare e dice l'abisso non è il precipizio ma il dubbio sì in questo avviso mi piace in abissarmi e spesso ho paura delle delle situazioni della della mancanza di civiltà che significa che cercare di allontanare i dubbi di non tenerli in conto il dubbio è sempre come l'ombra di ogni affermazione no mi piace il silenzio che c'è dietro ogni parola alle volte è più indicativo e più significativo della parola stessa no e tante volte una con un concetto una concezione un'ideologia che allontani dubbi mi fa sempre mi fa sempre paura quindi penso che bisogna tenerci tenersi i dubbi dubitare è una cosa bellissima si va avanti dubitando mantenendo sempre un'ombra di dubbio davanti a ogni cosa ti fa sentire più ricco più 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 irrequietto è una tenendo un piede sulla certezza un altro sul dubbio si riesce ad avere un equilibrio maggiore a mio avviso aspetta perché è arrivata una domanda che cerco di metterti a video eccola qua dice l'inquietudine nasce per l'incognita del futuro ma senza inquietudine non c'è futuro senza futuro si rimane statici e non c'è nessuna evoluzione beh complessa la posso leggere di nuovo sì certo scusami eccola qua beh ma non soltanto per l'incertezza del futuro quindi diciamo non a me piace coniugare declinare quindi non vedo mai il futuro staccato dal dal passato dal presente nomi sono elementi da declinare quindi l'inquietudine nasce anche dal passato quindi quando si ha una certa età tantissime volte l'inquietudine viene dal ricordo alle volte dal rimorso dai sensi di di meditazione su quello che uno ha pensato su quello che uno ha pensato di sapere su quello che uno ha fatto quindi c'è una inquietudine e anche un desiderio di cui parlava niccio non desiderio un desiderio a ritroso inquietudine non soltanto nasce dal dal futuro e con l'età penso nasca di più dal dal passato e sempre da quella coniugazione del futuro e passato che il che è il presente bene senti il concetto del nostos di questa nostro prima parlavi di omero avete letto di liade e anche lì c'è in omero il concetto di nostos quindi è un concetto che percorre la nostra cultura se lo ritroviamo nelle tue nel tuo discorso soprattutto iniziale sì 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 diciamo tutti i miei romanzi più grossi sia volvere al mondo che che ojos que noven c'è sempre un nostos c'è sempre un ritorno mi piace andare e ritornare la nostra civiltà inizia inizia con la parola ira nell'eliada e inizia nell'odissea con un ritorno e si ritorna sempre da una guerra si si ritorna sempre da una troia quindi questo ritornare dalla guerra il viaggio di ritorno mi sembra fondamentale ritornare quindi a meditare su quello che è stato fatto ritornare a considerare le azioni di guerra no anche le le idee che mi hanno portato ad agire quindi questo mi sembra sempre molto importante e c'è sempre nei miei libri un personaggio che ritorno ci sono certi motivi che si che ripercorrono sempre i miei libri uno è il ritorno del volverno e l'altro è il passo indietro quindi davanti a un'azione davanti a un crimine davanti a un corso c'è sempre il passo indietro quindi questo sono due motivi che mi interessano moltissimo che il passo indietro in che senso alle volte cercare di compiere un'azione alle volte un'azione terrorista essere in grado attraverso il dubbio attraverso l'attenzione verso il concreto di portarsi indietro di fare indietro e non arrivare al alle volte un suicidio alle volte un crimine quindi questo 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 motivo del passo indietro mi interessa moltissimo sì sì perché vuol dire che si sta ragionando vuol dire che sta subentrando la razionalità vuol dire che non ci si sta facendo guidare in questo senso che non ci si fa guidare magari dall'istinto ma si riesce a frenare mettendo in gioco la nostra razionalità ecco il silenzio ha preso il sopravento sul rumore che il dubbio per sul sopravento sul sull'idea sull'ideologia sulla certezza quindi questo che il concreto ha preso il sopravento sull'astratto quindi questo che il reale ha preso il sopravento sull'interpretazione quindi questo è un argomento che ci porta sempre questo dualismo questa dialettica che si crea eh sì ma quindi mi viene quasi da pensare che come nei due in questi due racconti che sembra che dialoghino fra di loro perché attraverso dei rivoli sotterranei come un fiume carsico sono questi rivoli sotterranei non li vediamo però questi due racconti dialogano ma mi sembra che anche i tuoi libri dialoghi no fra di loro sì sì no e questo quello che dicevi è sempre interessante quindi abbiamo parlato prima ma è molto curioso perché non avevo mai pensato a mettere assieme ma è vero che dialogano dialogano perché c'è probabilmente un una sfera di interesse che li accomunano ma più misteriosamente dialogano quindi e per quello è un libro no è un libro quindi sono due resti di libri ma ma fanno un libro non è vero che sia mettere due pezzi assieme ha senso come 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 libro non mi ricordo più quello che è perché stiamo chiacchierando ci perdiamo poi finché io ti ascolto però intanto che tu parli io penso anche alle domande perché cerco di agganciarmi alle cose che dici ma se no stavamo parlando proprio del fatto che i tuoi libri dialogano fra di loro non solo i due i racconti che ci sono in questo libro ma anche da quello che tu mi stai dicendo anche i romanzi dialogano tra di loro attraverso questi fili conduttori del passo indietro del dubbio hai capito e quindi c'è un continuo una dialettica sempre costante tra i tuoi libri è vero probabilmente è così con tanti scrittori ma ho fatto una di recente una esperienza questi mesi a dietro perché ho corretto occhi che non vedono per la quinta edizione ho detto diamo un'occhiata per vedere si toglie sempre qualche errore qualche e ho corretto per la seconda edizione volvere al mondo che un libro di quasi 700 pagine e io pensavo che ogni libro mio era assolutamente diverso di quello anteriore quindi in ogni libro io dico è stata fatta una ricerca adesso vado ad un'altra ricerca dopo volvere al mondo che un romanzo di ampio respiro con elementi mitici così ho cercato di fare un romanzo breve una novella una novella per me è breve vuol dire 120 pagine ma l'ultimo il mio ultimo libro è un libro dalla classifica difficile perché ci sono da narrazioni elementi elementi di pensiero di meditazione tantissimi registri dietario probabilmente e quindi in ogni libro almeno formalmente io mi mi pongo degli obiettivi diversi invece rivedendo adesso questi due per le successive edizioni mi sono reso conto che c'è sempre il mio mondo che sono sempre gli stessi motivi che ritornano che non finisco mai di pensare le stesse cose penso che possa succedere così per tutti che uno ha una sfera di inquietudine che è sempre più o meno la stessa gli elementi fondamentali quello che è importante nel libro nei libri in genere è quello di cui parlava Joyce che l'importante è a che livello animico sono stati pensati e scritti qual è la profondità animica da cui emerge quella scrittura e quindi questo sì che mi sembra importante quindi il grado di elaborazione della esperienziale e scritturale e tecnica quindi questo è molto importante e io non separo tecnica da anima quindi penso che in questo sono molto greco antico quindi l'arte e la tecnica non erano separati e quindi quella scrittura un po' complessa, difficile, ricca di cui ho bisogno è anche un modo di sondare bisogna trovare parole quali profondità o quali anima, quali coscienza e quindi tenendo conto che alle volte anima e coscienza non vogliono dire che irrequietudine, inquietudine quindi dubbio, sempre pensiero, inestabilità, voglia di ricercare in quella inestabilità sai molti scrittori magari presentando i loro libri mi hanno detto io scrivo quello che conosco parlo di ciò che conosco e ascoltando le tue parole che parlano di profondità, di anima se applico questo concetto che mi hanno detto altri scrittori lo applico alle tue parole, dico devi conoscere molto bene non solo la tecna e quindi la tecnica di scrittura che vabbè uno quella la può anche imparare ma conoscere la propria anima e riuscire ad entrare in profondità nella propria anima non è così semplice pensi che se ha dovuto questa capacità di riuscire a guardarsi veramente in profondità derivi anche, derivi solo da una sensibilità o è qualcosa che si impara a fare secondo te? Sì, molto interessante quello che dici e come imposti la questione no, quello che hai detto che della risposta di altri scrittori non vale molto per me quindi non parlo di quello che conosco perché mi annoierebbe quindi se lo conosco lo conosco e quindi sì posso trasmetterlo, è chiaro anche questo ha un senso conosco un ambito della realtà umana e cerco di trasmetterlo ma a me interessa proprio il contrario oppure interessa questa tensione con il contrario, cercare quello che non conosco e quindi la ricerca va verso la condizione umana e verso la meraviglia dei nostri destini quindi mi piacciono questi destini strani di certe persone mi piace quando il destino ti prende come un animale che dice adesso sei già mio quindi queste cose mi interessano tante volte, non so per esempio adesso sto andando qua a Soria verso le montagne quasi praticamente la fine del mondo per sentire delle persone, dei vecchi pastori che hanno 80 e molti anni, 90 e passa anni sono gli ultimi, l'ultima generazione superstiti per pochissimi anni di persone che hanno fatto un viaggio ogni volta dalle montagne qua di Soria fino all'Andaluzia ogni volta andata e ritorna quindi è una vecchia abitudine per cui si cercava la pastoriscia i pasti sia qua d'estate al nord e d'inverno verso il sud della Spagna quindi queste persone sono un mondo che scompare un mondo dell'anima che scompare sono persone che non si lamentano mai che hanno dormito sotto le stelle migliaia di giorni quindi una cosa di Elia Scanetti che diceva e sdraiarmi con gli animali per poter vedere così le stelle in un modo sovrano quindi vedendo così un mondo alle volte tra parte dei giovani in cui notiamo su... stiamo in un mondo assolutamente coccolato dove qualsiasi cosa con cui non sono d'accordo mi fa lamentarmi mi fa chiedere chissà continuamente avere solo desideri quindi per queste persone come sono dentro di sé queste... una persona che ha 93 anni che vive ancora da solo che vive in una minuscola casa senza riscaldamento ancora in un paese dove c'è la neve per una parte come sono queste persone? come hanno vissuto? con che forza dell'animo? mi interessano queste cose quindi non so se riesco a capire qualcosa ma non tanto per descrivere anche per descrivere le loro parole ma... quindi sono... forse con questo non mi porta niente quindi forse non scrivo niente ma mi interessano questi mondi proprio perché non li conosco certo sto riflettendo molto sulle parole che stai dicendo perché in questa realtà fatta di social di superficialità spesso leggiamo solamente dei post o su Facebook o nei social, Instagram ed è tutto un mordi e fuggi tutto legato alla superficialità finalmente sentire parlare di profondità di ricerca anche di qualcosa di sconosciuto è qualcosa... cioè mi fa riflettere e mi... e... e dico beh c'è ancora spazio c'è ancora posto per... per... per arricchirci perché per me è fondamentale leggere qualcosa magari non lo capirò fino in fondo perché lo scibile è insomma cioè io mi rendo conto più vado avanti di più delle cose che non so di quelle che so onestamente però il fatto di poter leggere di poter trovare qualcosa che non so e che mi arricchisce è fondamentale questo quindi mi fa piacere sentire che tu cerchi di parlare di qualcosa che non sai ecco non so se sono stata chiara è un concetto un po' difficile anche da esprimere Nei momenti più più amari o più più bui no? o o addirittura più divertenti perché è anche l'altro verso uno si chiede se se ancora l'umanità o almeno molte persone hanno ancora voglia di arricchirsi no? Non lo so penso che tante persone sempre di più hanno voglia di di essere ingannate di vivere di vivere in un simulacro totale di vivere nell'inganno nella bugia nella interpretazione di interpretazione in una immagine che rimanda a un'altra e questa ad un'altra ad un'altra no? In una voglia spensierata di di dimenticare il reale il concreto no? Quindi penso questo sia il il nostro mondo no? non soltanto un mondo nella caverna ma un mondo in cui dentro della caverna si pensa che il fuori non esista quindi che il reale non esista questo è stato teorizzato soprattutto dagli appunti di Nietzsche quindi non ci sono fatti ci sono interpretazioni non non vole questo questo era un appunto si è fatto molta letteratura su questo ma nel senso questo è il senso della velocità della nostra epoca no? Quindi che il concreto il reale stia scomparendo no? E quindi a me interessa l'indirizzo contrario o almeno l'attenzione no? Quindi penso che che esista ancora qualcosa indipendentemente da 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 noi soggetti no? Quindi penso che esista il reale poi esiste per noi e quindi noi lo nominiamo facciamo immagini facciamo interpretazioni ma diciamo è importante in quest'epoca di postmodernismo di costruttivismo ricordare che per tanti oggetti esiste l'oggetto fuori di noi no? Un'altra cosa è che quando parliamo di questo oggetto fuori di noi parliamo con il nostro linguaggio con le nostre immagini e quindi già nel parlare non è non è più indipendente da da noi no? Ma è importante pensare che il fatto esista che che i dati sono ancora importanti se no diventiamo tutti politici che parliamo a vanvera e parliamo solo di ingannare i futuri votanti no? Sì è interessante adesso ti faccio vedere due cose a video perché c'è anche una domanda prima c'è un saluto di Ginevra di Ginevra Maddio che dice la meraviglia di ciò che è inatteso bellissimo e ringrazio a me e soprattutto te e poi c'è una domanda che ti faccio vedere di Giulia Penzo è facile esaltare il vuoto e l'assenza perché si può giocare con la fantasia analizzare e descrivere la realtà è più difficile? È più difficile perché diciamo è quello che stavamo dicendo nel momento in cui si parla della realtà allora siamo già nell'ambito del linguaggio e il linguaggio ha una realtà una realtà in quanto linguaggio ma non più in quanto oggetto quindi è questa la nostra grande ricchezza ma anche ce l'ha un puntino in cui il mondo ci scappa e quindi è vero il reale è là o almeno tanti oggetti sono indipendenti da noi ma nel momento in cui scattiamo una fotografia facciamo un film parliamo di quella cosa quindi ci muoviamo già in un altro ambito e quindi questo è sempre così il linguaggio è la meraviglia più grande dell'essere umano penso e anche una certa debolezza dal momento in cui la parola non è la cosa quindi la parola è una cosa di linguaggio ma non è la cosa e quindi c'è sempre questo scatto ma questo scatto dal punto di vista artistico è meraviglioso quindi perché c'è tutta questa tensione nel voler esprimere nel cercare di esprimere e nel cercare di esprimere sempre meglio sempre di più sempre in maniera nuova se la parola dicesse la cosa la letteratura sarebbe finita quindi basta un grande autore avrebbe finito con la letteratura invece no invece abbiamo bisogno sempre di raccontarci storie da un punto di vista dall'altro dallo stesso in un momento in un altro per quello la letteratura non ha fine non ha fine perché non si riesce mai a parlare in modo definitivo di certe cose che hanno a che fare con l'anima e con i momenti delle azioni e delle decisioni umane però sul discorso del linguaggio ci sarebbe da fare un discorso sull'aspetto del linguaggio molto particolare perché le parole che noi usiamo creano la realtà perché ovviamente e oggi io sto notando che c'è un linguaggio sempre più aggressivo sempre più tu prima parlavi della gente che vuole farsi ingannare che si stacca quindi dal dal reale ecco io mi sto facendo domande mi sto interrogando in questo periodo su questo aspetto della questione perché la gente vuole farsi ingannare da una parte ha sviluppato un aspetto a volte ipercritico perché di qualunque fatto almeno qui in Italia poi penso che sia così un po' dappertutto cioè succede un fatto tutti devono esprimere la propria opinione su quel fatto però dopo d'altro canto tu mi dici vogliono farsi ingannare tutti vogliono avere la verità in mano per me c'è una gran confusione in realtà io sto percependo una gran confusione ma sì sì viviamo in un mondo di una immensa confusione ma confusione ma anche il contrario il senso di non essere confusi di avere la verità di avere la ragione i greci distinguevano benissimo tra la doxa l'opinione e l'episteme che è la verità adesso la doxa è diventata episteme quindi ognuno ha un'opinione su qualsiasi cosa quindi attraverso qualche dato e qualche piccolo ragionamento oppure rispecchiando quello che ha sentito sembra di avere una verità su ogni cosa penso che la verità sia una tensione di ricerca ma stiamo parlando di questioni molto complesse quindi diamo delle pennellate un po' così alla cieca da una parte diciamo Nietzsche aveva ragione nel senso che bisogna vedere quanta verità siamo capaci di sopportare quindi la verità è insopportabile tante volte e quindi ma gli uomini abbiamo bisogno di sopportare la verità e quindi quanto quanta verità siamo in grado di sopportare quindi questa è una questione importante delle volte poca e quindi ci lasciamo abbindolare ci piace lasciarci abbindolare ci piace affascinare che ci affascinano quindi il fascino è una cosa fondamentale in questa società moderna ti può affascinare ti può affascinare una persona ti può affascinare un paesaggio una città un cantante un mito dicono e quindi viviamo in un mondo di fascino di fantasmagoria quindi il grado di fantasmagoria di questo mondo è tale che vediamo e soprattutto di di perita di collegamento con il reale tantissime volte diciamo ma come è possibile che questa persona che questo fatto ti affascini prova a denudarlo un po' e vedrai che resta ben poco che c'è un poco ma insomma e poi questo mondo vediamo dove ci porta diciamo il il passo in avanti tecnologico è tale in questo momento che non non riusciamo a stare a pari passo con questa con questa tecnologia quindi è molto in avanti riguardo a noi non stanno scomparendo tantissime cose tanta capacità di decisione quindi è la tecnologia che ci porta avanti noi non siamo in grado di reggere benissimo né 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 riguardo al tempo che dedichiamo agli elementi tecnologici né né alla padronanza su di loro e quindi questo fa è inquietante è inquietante sempre la questione della tecnica è stata inquietante inquietante perché perché vediamo chi prende il sopravvento chi porta le redini se la tecnologia o noi adesso le questioni sono terribili con l'intelligenza artificiale diversi è un passo avanti straordinario e per altri vediamo se rimaniamo con qualche capacità di decisione umana oppure è finita anche questa no bisogna imparare ad utilizzarle bisogna è che si fa fatica a stare al passo questo è vero perché io perlomeno a volte mi piace il progresso però mi piace anche assaporare il momento che sto vivendo invece viviamo in una costante tensione di qualcosa di nuovo che deve arrivare di qualcosa di nuovo a cui ci dobbiamo abituare e che dobbiamo adesso tu hai fatto l'esempio dell'intelligenza artificiale cioè ci eravamo appena abituati ad un certo almeno per quello che mi riguarda ad un certo modo di usare la tecnologia e già c'è qualcosa di nuovo che mi crea l'ansia di dover imparare di dovermi adeguare di non di non farmi abbindolare ecco anche da questa nuova tecnologia da questa intelligenza artificiale che ha delle grandissime potenzialità ma anche dei grossi pericoli se non siamo in grado di utilizzarla bene sì ma già da un punto di vista per esempio del tempo a disposizione il progresso è stato grandissimo ma il giorno continua ad avere 24 ore quindi queste 24 ore vanno impiegate in un modo speriamo intelligente quindi se io sto quattro ore a guardare la tv e cinque con con il telefonino e altri tre parlando al telefono quindi non resta tempo per niente e soprattutto resta poco tempo per pensare con la propria testa quindi chiamano pensare a leggere del twitter quindi io scherzo un po' quando mi chiedono dico no lei è twitter dico no no io a me non interessa niente che abbia meno di cento pagine dico così anche per scherzare ma con un senso diciamo anche profondo della questione quindi non mi interessa niente che non si possa vedere diverse volte rileggere che mi faccia pensare che mi che mi faccia sentire e quindi quest'epoca è portata all'immediatezza al sentire una notizia che due minuti dopo non è più notizia perché già fa notizia un'altra cosa quindi questa vertigine questa accelerazione continua ci sarà interessante per qualcuno ma per me per me no no ti capisco ti capisco ma così anche per me cosa guarda soffermarmi sempre di più sulle cose e sulle stesse cose no sì e beh basta vedere anche nel mondo proprio dell'editoria nei libri cioè un libro dopo un mese per qualcuno è già vecchio hai capito e sparisce dal entri in libreria e vedi libri nuovi sempre nuovi sempre cose non c'è la capacità di rallentare anche proprio la lentezza c'è stato c'è un bel libro l'elogio della lentezza abbiamo bisogno il nostro cervello non è fatto per la velocità o non sempre perlomeno è fatto per la lentezza e quindi anche la possibilità di ritornare sulle cose ecco di di riflettere di di ponderarle questo non sempre c'è il tempo effettivamente tutto è di corsa tutto è frenetico io me le prendo a dire la verità sai il tempo sinceramente prendo proprio il tempo per curare la mia per alimentare la mia anima e credo che dovrebbero farlo tutti insomma qualche qualche minuto al giorno anche qualche ora poterla prendere e arricchire la propria anima resta sempre quella domanda perché a noi ci sembra fondamentale è stato così dall'inizio della nostra della nostra cultura quindi da Aristotele la forma più degna di vivere cercare di conoscere le cose per conoscere le cose bisogna tempo e prospettiva e distanza e tutte queste cose ma la domanda è quella se se c'è ancora voglia se è ancora se si sente ancora la necessità di coltivare qualcosa che la possiamo possiamo dire qualcosa come un'interiorità un'anima una coscienza qualcosa all'interno non lo so forse anche quello sparirà non lo so cosa guarda io ti ringrazio è stata una chiacchierata veramente arricchente e spero che tu decida di fare un viaggetto in Italia e speriamo speriamo di presentare una cosa mi permette a dire mi escluso con quelli che sentiranno questa trasmissione perché il mio italiano in questi ultimi anni si è ingranchito arrugginito rattrapito quindi eh sì già usare rattrapito hai un lessico che avessero gli italiani si perde la fluidità quando non si è più immerso beh guarda complimenti perché è un italiano veramente un italiano ti ringrazio ti ringrazio per le domande sempre intelligenti e gentili e speriamo di rivederci di personale guarda lo spero davvero anche perché mi piacerebbe leggere occhi che non vedono che ho visto che è stato ripubblicato recentemente da Rizzoli e magari parlarne qui parlarne in presenza sarebbe l'optimum ma al limite accontentarci anche di parlarne così online che ci prendiamo questo appuntamento grazie grazie a te grazie a chi ci ha seguito ci vediamo dopo domani con Paolo Malaguti e Piero Fa l'America grazie ancora Cosè un abbraccio e buonanotte a tutti e buonanotte a tutti